Bollettini, bollo auto, fotocopie per il capo, tutto e subito! Ah, come faccio? Puoi farlo! Tutto, subito e in un solo posto! I portici, pagamento bollettini postali, bollo auto, contributi lavorativi domestici, servizi bancari di Banca 5... Sì, e magari anche il caffè! Certo! I portici e anche bar, tabacchi, edicola, ricevitoria lotto e superenalotto, gratta i vinci di ogni genere, slot machine, servizio fotocopie, fax... Bartabaccheria ricevitoria I portici di Lorenzo Sarica, via Enrico Berlinguer 13B, Melito Porto Salvo. Tutto in un solo posto!